Disponibile alla Link Motors Putignano, vi presentiamo la nostra Chevrolet Matiz GPL Cambio manuale Immatricolazione gennaio 2008 Kilometri 154.000 Guidabile anche per neopatentati Ultimo tagliando maggio 2023 Cinghia sostituita a 90.000 km Chiusura centralizzata telecomandata Fendi nebbia, ruota di riserva, alzacristalli elettrici Climatizzatore, autoradio, cerchi in lega, marmitta catalitica, pneumatici estivi Che aspetti? Vieni alla Link Motors Putignano? Contattaci al numero 080 81 72 831 377 35 66 041 Prendi il tuo appuntamento Grazie a tutti